Allora, siamo al reparto vini. Signora, buonasera, come si chiama? Katia Pulcini. Lei vive in Germania o dall'Italia? No, sono una sommelier italiana e sono qui in Germania perché rappresentiamo queste cantine per presentare i nostri vini al pubblico. Che vini presentate questa sera? Beh, abbiamo cantine un po' da tutta Italia, quindi iniziamo dalla Sicilia, dalla provincia di Marsala con i tipici vini siciliani, l'Abruzzo con terre da Ligi, Puglia, Salice Primitivo, poi abbiamo bellissimi Prosecchi, da Cantina Castelnuovo del Garda i tipici vini veneti, quindi il Lugana, il Bardolino, eccetera. In Toscana, vecchia cantina di Montepulciano, per arrivare in Friuli con le tipicità di questa regione e terminiamo con un tre bicchieri che è il Gavi di Gavi di Bruno Broglia. Grazie signore, buon lavoro! Grazie mille!